Opinione su condizioni del campo e operato della Fermana, considerato che la neve era attesa in quasi tutta Italia? Innanzitutto c'è da dire che siamo non arrabbiati di più, perché mi è sembrato evidente come non sia stato fatto nulla per giocare questa partita. Ha smesso di nevicare alle 11 più o meno, la partita era alle 17.30, siamo arrivati qua e il campo non è stato nemmeno sfiorato per cercare di levare la neve, sicuramente era una cosa che si poteva fare. Riguardo argomento a livello preventivo di cosa poteva essere fatto, le previsioni meteo sono da una settimana che portano neve, ma mi viene detto giustamente che in Serie C non c'è l'obbligo dei teloni. Mi viene in mente a dire un'altra cosa grave, che a questo punto allora è l'ennesima conferma che serve a una riforma dei campionati, perché uno o è professionista o non è professionista, non mi riferisco e non metto il dito puntato contro la Fermana. Semplicemente mi sembra assurdo che nel 2021 non vengano comprati dei teloni, che non so il prezzo che possono avere, ma che possono garantire un regolare svolgimento di un campionato. Noi ora ci ritroviamo a dover giocare tutta una serie di partiti e di recuperi perché non sono state fatte le cose per bene. Quando qui era una nevicata preventivata e oltretutto ha smesso di nevicare alle 11, cioè 6 ore e mezzo prima che si giocasse la partita. Lo trovo inconcepibile, da una parte sono amareggiato, dall'altra sono molto arrabbiato, ma c'è da dire che per fortuna sono convinto che la squadra, anche da questa cosa, troverà le motivazioni per uscire fuori da questa serie che in effetti tante difficoltà ci sta mettendo davanti. Comunque ora ci rimbocchiamo le mani che pensiamo alla partita di mercoledì.